Adesso ci troviamo in compagnia con Scuola Molto Di Più, giusto? Il giornale della scuola Ippolito Nievo di Quartuccio in provincia di Cagliari. Benvenuti dalla Sardegna, questo giornale è capitanato dalla professoressa Pilosu che ormai conquista premi a ripetizione con Albo Scuole e quindi le faccio dire soltanto un benvenuto velocissimo. Guardi, noi siamo felicissimi di essere qui perché l'anno scorso siamo stati benissimo. Vi ringraziamo per averci dato questa opportunità. Come promesso l'ho fatta parlare pochissimo, anche perché vicino a me ho una telegiornalista di tutto rispetto. Come ti chiami? Francesca Pisu. Francesca Pisu, che classe fai? Terza C, della Scuola Media Ippolito Nievo. Quindi il prossimo anno andrai alle superiore, che scuola farai? Liceo Classico. E quindi ti perdiamo da Quartuccio, abbiamo perso la nostra corrispondente locale del TG24 da Quartuccio. Continuerai anche con Liceo Classico? Sicuramente sì. Dirai anche lì di fare le edizioni di Cronaca Locale? Assolutamente. Allora ti aspettiamo. Francesca, tu pensavi che con questo tuo videoservizio sulla riforma Gelmini, fatta all'inizio del TG24, potessi arrivare in finale? Assolutamente no. Tutto pensavo tranne che questo. Pensavo che comunque il video sarebbe piaciuto, ma non così tanto, sicuramente. Bene, anche tanto modesta farà strada questa ragazza. Grazie di essere venuti, buon soggiorno a Chianciano, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla premiazione. Grazie.